Salve amici appassionati di Football Manager, qui con voi come sempre c'è Mac44, ovviamente Football Manager Italia Siamo qui con Football Manager 2016 per continuare la serie Mostremo le vostre carriere E oggi andremo a vedere la carriera di Mattia Scala con il Bologna Direi di non perderci in chiacchiere e di andare subito a vedere questa carriera Ovviamente prima di iniziare lo ringrazio infinitamente appunto per avermi mandato questa carriera Ce l'ho da più o meno 2-3 mesi e mi l'ha mandata a maggio Ma ho diverse carriere che mi sono state mandate a maggio Però sapete benissimo che appunto me ne mandate tante Quindi dovete solo avere un po' di pazienza Sono certo che quasi tutte le metterò in onda Al massimo se si fa troppo tardi verso FM 2017 farò un episodio conclusivo O meglio più episodi conclusivi con più carriere insomma messe in un solo episodio Detto ciò direi di non perderci in ciancere Andiamo a vedere questa carriera con appunto il Bologna Che mi sembra comunque una carriera molto molto interessante Ha fatto comunque un buon mercato Il primo anno è arrivato quarto che significa Europa League Il secondo anno è arrivato secondo che significa Champions League Per una squadra come il Bologna è veramente tanta tanta roba Ma poi il terzo anno fa il miracolo vincendo la Serie A Poi vince anche la Supercoppa Italiana questo anno Che ovviamente è appena iniziato E lo invito insomma a scrivere qui nei commenti Come ha continuato questa carriera I trofei che ha vinto E appunto cosa ha fatto E detto ciò direi di andare a vedere poi nel dettaglio Le varie stagioni Il primo anno che è appunto quello del quarto posto Ha iniziato bene o male con il botto Anche se c'è stato un periodo un po' di calo Dove appunto si è eliminato in Coppa Italia Poi ha perso col Chievo la Roma Un pareggio con la Samp Un 3-4 relativamente sfortunato con l'Inter Perché poi va in vantaggio con l'Ingard Lo recupera Poi ritorna in vantaggio Poi... no meglio Segna l'Ingard Poi Icardi Poi Biabiani Poi recupera il pareggio insomma Poi di nuovo Mauriti Cardi Destro E poi Palacio Quindi diciamo è stato pure abbastanza sfortunato Dove essere stata una partita molto molto interessante Poi di nuovo per fortuna un filotto di pareggio e vittorie E il finale relativamente altalenante Con comunque sconfitte A parte quella con l'Atalanta Che ci stanno Ovviamente ragazzi Quando io dico a parte che l'Atalanta Sappiamo benissimo che ovviamente la Juve è più forte dell'Atalanta La Roma per il momento è più forte dell'Atalanta Quindi non è che io ce l'ho con l'Atalanta È solo che è una cosa oggettiva Lo dico perché l'altra volta mi è stato criticato Che ho detto che la partita col Frosinone era più facile Però fra un Barcellona e un Frosinone Credo che sia normale che la partita col Frosinone sia leggermente più easy Però vabbè Sembra che devo specificare poi ogni cosa Ma a quanto pare sì lo devo fare E invece il secondo anno Che è poi quello del secondo posto Arriva appunto in Europa League Dove prende il Copenhagen credo L'Austria e poi lo Zenit Quindi diciamo un girone non proprio facilissimo Perché lo Zenit ovviamente è una squadra molto molto ostica Però a quanto pare lo riesce pure a battere Vincendo addirittura 3-0 Poi pareggia un'altra volta col Copenhagen Però poi vince di nuovo con l'Austria Quindi quasi al 100% si è qualificato Infatti si passa col Siviglia Addirittura vincendo un complessivo di 4-0 Non è facile battere il Siviglia Visto che oramai sono millenni che vince questo trofeo Poi Basilea addirittura riesce a eliminare Però perde purtroppo ai quarti di finale Con il... Ho fatto avanti e indietro perché si era bloccato Con lo Shakhtar E peccato Un complessivo di 5-1 Però vabbè E poi vabbè in Serie A invece fa molto bene Perché mi pare che questo era No, l'anno del secondo posto Quindi dove arriva in Champions League Poi l'anno della Champions League sappiamo tutti Abbiamo già visto che appunto vince lo Scudetto Va in Champions con il Wolfsburg, il PSG E il Galatasaray Un girone veramente molto molto ostico Dove in teoria Bologna stesso è la cenerentola del gruppo Però riesce a pareggiare col Wolfsburg Riesce a pareggiare col PSG Vince col Galatasaray Poi ripareggia col Galatasaray Pareggia col Wolfsburg E pareggia col PSG Quindi non ha sconfitte E riesce pure a passare in Champions Dove però viene buttato fuori dal Manchester City Devo dire che è stato parecchio sfigato Da acchiappare il City subito così E per il resto comunque il campionato non lo vedo tanto Perché tanto ripeto sappiamo già che lo ha vinto Dicevo che ci sono un sacco di vittorie e pareggi Però ci sono anche le sue sconfitte E però veramente tanta tanta roba Dopo andiamo a vedere anche per curiosità Con quanti punti ha vinto il campionato Poi vince la Supercoppa Italiana con la Juventus Quindi veramente tanta tanta roba Adesso deve affrontare una Champions contro l'Apoel Il Barcellona e il Tottenham Quindi veramente complimenti Anche qui non è stato proprio fortunatissimo Barcellona e Tottenham non sono due squadre scasse Anzi l'Apoel invece è già un po' più easy da battere Detto ciò andiamo a vedere più nel dettaglio Insomma le varie classifiche dei vari anni Il primo anno è arrivato quarto a 65 punti Che sfiga per un punto poteva anche arrivare in Champions League Però diciamo che anche l'Europa League non è affatto male Sicuramente di Introid è molto meno Però insomma diciamo che forse è meglio farsi un po' di gavetta prima Prima del poi approdo in Champions Che arriva appunto il secondo anno a 78 punti E a parecchi punti in più dalla Roma Ben 14 ridacchio perché la Juve veramente ha strarivato Ha fatto 105 punti E grazie a ciò ovviamente ha stravinto il campionato Non vinto, ha stravinto Pensate all'anno prima ne aveva fatti fra virgolette solo 80 Poi il terzo anno che poi è l'anno della vittoria dello Scudetto Ha fatto ben 86 punti Complimenti Non è affatto facile E la Juve si è un po' frenata Infatti ne ha fatti fra virgolette sempre solo 80 Che poi se ben pensate al primo anno l'aveva vinto lo Scudetto con solo 80 punti E quindi veramente molto variabile in pratica il campionato Retroceno Genova, Carpi e Frosinone sono curiosi di vedere Sampdoria, Latina e Novara Il primo anno Verona, Frosinone e Chievo Strano per il Chievo che comunque quest'anno nella realtà ha fatto un bel campionato Nel campionato di adesso è quarto Ma vabbè a pieni punti Ha fatto due vittorie insomma con Sassuolo e Perugia che finalmente ritorna in Serie A Detto ciò come sempre andiamo a vedere la parte più divertente della carriera Cioè il calcio mercato Il primo anno compra, prende in pressio più che altro Christian Pavon Che però poi a quanto pare non riscatta Forse non aveva il diritto di riscatto Comunque è un giocatore molto molto interessante Lo conosciamo molti di noi E comunque un ottimo giocatore che sicuramente Mi avrà dato una grande mano Poi questo Gerrardo Torrado Che sinceramente non conosco Quindi ci fidiamo di lui Poi Jesse Lingard dal Manchester Vabbè questo invece lo conosciamo un po' tutti Un laterale che si prende il primo anno in prestito Un giocatore comunque molto molto interessante Che adesso nel 2018 guadagna circa 6 milioni e 100 col Watford Quindi me coglioni E poi compra Enrico De Micheli che sarà un giovinastro che forse ha creduto in lui Però mano a mano questa abilità potenziale sta scendendo Per quanto invece con cennere cessioni parecchi prestiti Poi la cessione di Castaldello a 300 mila euro E a costo 0 acqua fresca Vabbè sicuramente O l'avrà svincolato il contratto Sarà andato appunto poi a parametro 0 Anche Ricler gli ha subito rescisso il contratto Però vabbè insomma Avrà Non gli sarà servito insomma Poi il secondo anno compra Luca Rizzo dalla Samp Un centrocampista comunque niente male Che però poi ha ceduto all'Udinese Forse la cifra è un po' esosa Però vabbè ha creduto in lui Non sa invece di tutt'altra pasta Un giocatore molto 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 interessante Soprattutto poi pagato a soli 2 milioni Dal Sant'Alcangelo ha preso Saure a 13 mila euro Vabbè si parlava mi pare bene di lui anche nella realtà Forse per questo l'ha preso Boschi che è ancora in squadra L'ha preso a parametro 0 Non male Soprattutto comunque il valore di 16 milioni e mezzo Per un parametro 0 Mica male Bocchetti pure come riserva Non dispiace Non guadagna poco di ingaggio Però insomma come alternativa non ha fatto male Un giocatore di grandissima esperienza E poi colpaccio Il nino Torres Minchia Minchia che non l'avevo visto questo Che acquisto Poi Adriano dal Barça Matri Dal Milan Begovic Volevo dire per spizio Che ha fatto con lui Ha fatto 21 partite 7 gol E 5 assist E media voto 7 e 10 Quindi il primo anno ha fatto abbastanza bene Minchia l'Atletico ha fatto 36 partite 21 gol Un mostro Vabbè Begovic Un acquisto che abbiamo visto spesso Kutka Un altro giocatore molto molto interessante Soprattutto nella realtà E Sherry Shebb Resetting Che è un giocatore Che è un giocatore che Comunque molto molto interessante Tider che sta facendo benissimo L'ho visto Veramente una media voto devastante 8.20 Ed è un giocatore veramente molto molto valido Marchinhos Minchia In prestito dal PSG L'ha pagato un bel po' di soldi Però insomma Un buon prestito Radosevic Ex Napoli In prestito O meglio In prestito a parametro zero Che poi ha girato al Perugia Rabiot Ottimo giocatore Walker In prestito Ottimo Rugani Ottimo Michele Anderson Non lo conosco Comunque Vabbè Un giovinastro Lucas Leiva Un altro ottimo giocatore Lo conosciamo tutti Da Liverpool Veramente tanta tanta roba E poi Il colpaccio Questo mi ha stupito molto Come acquisto Perché poi l'anno dopo Lo andrà a comprare Oscar dal Chelsea Veramente Un giocatore assurdo Che fa strano Vedere in questo Bologna Però veramente Tanta tanta roba E poi Vedrete la cifra Con cui l'ha comprato E non ci crederete Veramente Un gran colpo Per quanto invece Concerni Le cessioni Vediamo Kuzka A 6 milioni Rizzo Zuculini Stojanovic Insomma Sempre cessioni Non tantissimo Nerose Ma comunque I giocatori questi sono L'ultimo anno Quest'ultimo calciomercato Compra Bernardeschi Comunque è un bel colpo Perché a volte Si può anche Comprare 50 milioni L'euro compra Con 16 milioni E fa veramente Un buon acquisto Lo conosciamo tutti Bernardeschi Oramai sono 2-3 anni Che A FM Fa benissimo Da quest'anno Anche nella realtà Nella Fiorentina Ha fatto benissimo Oscar Ecco Quello che vi dicevo L'ha pagato solo 15 milioni Veramente Un affare assurdo Un giocatore Straordinario Ma non sono io a dirlo Lo conoscete sicuramente tutti Perin Un altro buon acquisto Soli 4 milioni e mezzo Dal Dal Genova Veramente Un buon acquisto Con due spicci Proprio l'ha preso Di Gennaro Che è un Regan Comunque di belle speranze Ginetto Peruzzi Un giocatore che Abbiamo imparato a conoscere Col Wigan Noi l'abbiamo preso A molto meno Però è un giocatore Veramente tanto Tanto interessante Che se veramente Si riesce a prendere 10 milioni Io ve lo consiglio fortemente Mi è stato un po' criticato Però poi come sempre Diciamo Abbiamo dimostrato Che è un giocatore Molto valido Col Wigan Ha fatto grandi cose Ma a Mana L'ha preso a poco A 7 milioni e mezzo Considerando che comunque È il terzo o quarto anno Ottimo acquisto Craniviter Dal PSG Un altro ottimo giocatore Che adesso sta Nell'Atletico Madrid Ma anche nel gioco L'ha pagato un bel po' di soldi Però è un giocatore Veramente validissimo E quindi Ve lo consiglio Vivamente Anche a voi Detto ciò Poi come le gestioni C'è quella di Mounier Al Chievo Vabbè Un giocatore che comunque Diciamo L'ha con l'età 30 anni Si può andare via Bayer Alla Samp Comunque un'altra Buona gestione E poi infine Radosevic Al Perugio Ci ha fatto 2 milioni Quindi Tanta tanta roba Considerando che L'aveva preso A 0 Poi anche Mirante Se ne va Wow Stranissimo Vabbè Era diventato un po' scarso Diciamo che l'ha sostituito Con Perin Certo Mirante È un portiere Niente male Però a quanto pare Ha puntato poi più su Perin E poi su Bekovic Detto ciò ragazzi Io quando ho visto La formazione Era un po' tutta scombinata C'era Oscar In difesa Sherice Vi importa Quindi L'ho un po' fatta io La formazione Non so se è proprio questa Però io ho messo I migliori in campo E effettivamente Vabbè C'è un'ottima squadra Poi ci sono 2 formazioni Questo 4-2-1-3 E questo 4-1-4-1 Sono Diciamo Moduli simili E diversi Qui non ci sono le istruzioni In quell'altro si Io vi faccio vedere questo Poi vi faccio vedere anche quell'altro Più che altro Per le istruzioni Io ho messo in porta Bekovic Ma anche Perin può giocare Insomma Si possono alternare Che sono tutti e due molto forti Masina a sinistra Anche perché a sinistra Non c'è nessuno Peruzzi a destra Man mano è in difesa C'è o Pulgar O Economo Insomma Posso giocare tutte e due Sicuramente quello che vi posso consigliare Dal mio piccolo È un difensore centrale È un terzino sinistro Secondo me gli servono Come il pane Per fare il salto di qualità Anche se Masina Indubbiamente è un giocatore Di tutto rispetto Tecnicamente forse un po' meno Soprattutto perché comunque Il suo Bologna È cresciuto parecchio Poi c'è Vabbè A centrocampo c'è Krisering E Klinevitter Può giocare anche Lucas Leiva O Don Sa Quindi comunque A centrocampo sta messo bene Poi c'è Taiter Che è veramente Indiscutibile È un giocatore che Si è dimostrato A quanto pare Fortissimo In attacco c'è Sheryshev e Oscar E poi destro Ovviamente in attacco Poi c'ha Come alternativa Matri E poi c'è anche Bernadesca Effettivamente può giocare A posto di uno dei due Poi c'è anche Voschi Che può giocare A posto di uno dei due In difesa c'è anche Bocchetti Che potrebbe giocare Fra virgolette Titolare Ma secondo me Un giocatore appunto Veramente forte In difesa Gli servirebbe Da affiancare a manmana Insieme poi anche Forse un terzino sinistro Perché poi per il resto La squadra è veramente Completissima In porta Sta messo bene A centrocampo Sulle ali in attacco Sta messo benissimo Ma Ripeto Essendo una carriera Di maggio Sicuramente Sarà andato molto più avanti Sicuramente Avrà fatto grandissimi Colpi Di mercato Detto questo Io spero che il video Vi sia piaciuto A proposito Mi sono dimenticato Di farvi vedere Le istruzioni Dell'altra tattica E Spero che questo video Vi sia piaciuto Come sempre Mettete mi piace Commentate Condividete Se avete una vostra carriera Mandatemela su facebook Se non sapete come Poi ve lo spiego Io sempre su facebook Se non rispondo subito Perché Per 3 o 4 giorni Non sto Sul pc Quindi Al massimo Abbiate un po' di Pazienza Detto ciò Come sempre Un saluto Maic94 E ovviamente Football Manager Italia Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi